Un intero villaggio turistico, costruito sul litorale Domizio, era abusivo. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha sequestrato questa mattina l'intero villaggio Stella Maris, edificato su un'area sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali di proprietà della regione Campania. I baschi verdi hanno accertato, tra i numerosi reati contestati, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale ed ideologica, invasione di terreni, costruzioni in assenza di autorizzazioni e lottizzazione abusiva. Secondo la Procura, tutti i lavori edili, consistiti nella realizzazione di 108 nuovi bungalow rispetto ai 185 già esistenti nel villaggio turistico, erano avvenuti in assenza di ogni autorizzazione e licenza. In pratica l'intero complesso turistico era stato realizzato abusivamente su un terreno di proprietà della regione e quindi di natura a destinazione pubblica. Il reato di lottizzazione abusiva viene contestato per due alberghi, tre piscine, vari corpi di fabbrica adibiti a ristoranti, pizzerie, palestre, sale e giochi, un centro commerciale, oltre a 300 strutture di accoglienza, per un valore complessivo di 25 milioni di euro. Il tutto costruito grazie ai fondi del Ministero delle Attività Produttive per circa 383 mila euro, di cui più di 345 mila già erogati per l'ampliamento del villaggio turistico.